Anche quest'anno rinnoviamo l'appuntamento con Shabaka, siamo alla sesta edizione, siamo a Soveria Mannelli, anche quest'anno sarà un'edizione che spazierà dall'attenzione alle trasformazioni della nostra società, in particolare ci sarà un bel dibattito con il professor Mimmo Talia dell'Università della Calabria che ci parlerà di algoritmi e vita quotidiana come le nuove tecnologie, soprattutto come l'intelligenza artificiale e gli algoritmi entrano anche nella vita di tutti noi. Avremo un momento dedicato al parco Carta che è un parco di arte contemporanea che apriremo all'interno dell'industria rubettino e lo faremo con Alessandro Fonte e Chanette Poe che sono i due curatori di questo nostro nuovo progetto e con due artisti internazionali che saranno i primi due autori delle prime due opere che andranno a costituire questo parco. E poi ci sarà un momento molto bello con Fabio Andina che è uno scrittore scoperto da Rubettino, lanciato da Rubettino sul mercato, un autore di best seller tradotti in diversi paesi europei, uno scrittore che si occupa di narrativa in particolare, con particolare riferimento alle montagne, alla montagna e insieme a lui parleremo di letteratura naturalmente, però parleremo anche di come l'attenzione ai territori attraverso la letteratura può generare percorsi di sviluppo. Andina è uno scrittore del canto anticino svizzero e grazie alle sue opere pubblicate da Rubettino il suo territorio ha avuto una una importante crescita anche di flussi turistici, di persone che vanno a visitare i luoghi che il narratore racconta nei suoi romanzi. Quindi siamo a cavallo tra letteratura e sviluppo dei territori e ci piace appunto indagare questo tema. E in più durante tutta la giornata, durante tutto lo Shabbacadei apriremo le porte della nostra azienda, quindi tutti i visitatori, tutti gli studenti potranno attraversare le porte dell'azienda e vedere dal vivo come nasce un libro, come nasce un prodotto a stampa e appunto capire quali sono le dinamiche che stanno dietro a questi prodotti. Grazie a tutti!